primo gennaio 2023 in questi giorni ci siamo scambiati tanti auguri e che cosa potevamo aspettarci dalla parola di Dio di questo nuovo anno se non che iniziasse proprio con un augurio. Commentiamo qualcosa del messaggio della prima lettura tratta dal libro dei numeri. Il Signore vi benedica e vi protegga. Sono le prime parole che ascoltiamo nella liturgia della parola del giorno di Capodanno e credo proprio che non esista un augurio più bello. Ma cosa significa benedire, benedizione? Sono termini che ricorrono molto spesso nella Bibbia sia nel primo che nel Nuovo Testamento, ben 617 volte, così che possiamo dire che nella Bibbia si benedice continuamente. Ma cosa vuol dire questo verbo benedire? Apriamo la Bibbia. Le prime pagine, la creazione del mondo. Dio riguardo gli animali, le piante che aveva creato e poi anche gli uomini, si dice, li benedisse dicendo siate fecondi e riempite le acque del mare, e voi volateli e riempite il cielo, siate fecondi, moltiplicati. Ecco, la benedizione termina con un augurio, un auspicio di fecondità, di vita. Questo è quello che accade alla persona che è benedetta, ha la pienezza di fecondità e di vita. Benedire significa proprio questo, significa vita, volere la vita, amare la vita, augurare, desiderare che l'altro goda della pienezza, della gioia e della vita. Ma sono tre i tipi di benedizione che noi conosciamo dalla tradizione. Il primo è il più semplice, il più immediato. È la benedizione che ci rivolgiamo reciprocamente, dove ognuno è chiamato a benedire il fratello che gli sta accanto, cioè desiderare per lui la felicità di vita. E cosa accade quando l'uomo benedice il fratello che gli sta vicino? Un uomo auspica amore per lui, ogni bene, e questo non si riduce a un vano auspicio a cui poi di per sé non segue poi alcun impegno pratico. Come quando noi, incontrando una persona in questi giorni abbiamo detto auguri il buon anno e poi ognuno se n'è andato per la sua strada. No, chi benedice in senso biblico vuole la gioia della vita dell'altro e si dichiara disponibile a fare tutto quanto è nelle sue possibilità, affinché questo desiderio di bene divenga realtà. Allora se la formula originaria della benedizione potrebbe essere ridetta così, io voglio che tu viva, sono contento che tu esista, la formula contraria della maledizione è non voglio che tu viva, che tu esista. Il mondo sarebbe più bello se tu non ci fossi. Questa è la maledizione. Non è che lo vogliamo uccidere, ma se per esempio questa persona viene portata via, muore da una malattia, non piangiamo più di tanto. Ma il nome cristiano può essere impiegato solo per benedire, mai per maledire, mai per escludere qualcuno dal nostro impegno perché lui sia felice. Il cristiano sta sempre dalla parte della vita e quindi della benedizione anche per il nemico. Ricordiamo le parole di Gesù, benedite coloro che vi maledicono. Anche nella lettera ai Romani Paolo dice benedite coloro che vi perseguitano, benedite, non maledite, ma il cristiano desidera un qualcosa che sia morte per il fratello. Ecco abbiamo tutti bisogno di sentirci benedetti gli uni gli altri e saremo tutti più felici se sapessimo che l'altro vuole la nostra vita e sarebbe bello sentire da ogni cristiano queste parole di benedizione, ma soprattutto quando costa pronunciarle in modo autentico perché deve rivolgerle a chi forse sarebbe più propenso a maledire. Così che la benedizione è una terapia per i nostri rancori, per le nostre rabbia, le nostre chiusure, le incomprensioni, le non accettazioni nelle diversità, i difetti dell'altro. C'è poi un'altra forma di benedizione che troviamo sempre nella Bibbia, quella con la quale l'uomo benedice Dio. Se prima benediciamo il fratello che sta accanto a noi, adesso alziamo lo sguardo per benedire Dio. Che cosa significa benedire Dio? Certo non possiamo augurare vita a Dio, significa riconoscere che Lui è il Signore della vita, significa prendere coscienza che tutto ciò che è amore, che produce gioia, viene da Lui. Ogni creatura ci è donata da Lui ed è un dono per la vita che deve essere usato per la vita, mai per la morta. Ecco, quando noi benediciamo Dio prendiamo coscienza di questa realtà, che le creature sono dono di Dio e vanno impiegate solo per la vita. Questa benedizione richiama a chi le pronuncia la verità che l'uomo non è padrone, tutto è di Dio, tutto deve essere usato secondo il suo disegno. I beni possono essere abbondanti ma sono destinati a tutti i figli di Dio perché abbiano la vita. C'è poi la terza forma di benedizione, quella che scende da Dio, è quella del nostro brano. Il Signore parlò a Mosè e disse, parla ad Aronne e i suoi figli dicendo così benedirete gli israeliti, direte loro ti benedica, il Signore ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Ricordiamo le parole di Dio Padre nel giorno del battesimo di Gesù al Giordano. Questo è il mio figlio nel quale mi compiaccio e allora Dio è contento, sorride quando noi gli assomigliamo. E poi questa espressione ti conceda grazia, che nella lingua originale ebraica significa benevolenza, gratuità, grazia. Vuol dire così che ti renda prezioso, simpatico, attraente, perché sei colmo della bellezza di Dio e quindi tu sei degno di attenzione e di affetto da parte di tutti. E chi fa sorridere il volto del Signore è una persona bella, anche agli occhi degli uomini, perché è una persona che ama. Dove non si sorride non c'è pace. E la domanda che noi vorremmo chiedere davvero al Signore, solleva il tuo volto, lo vogliamo vedere. E proprio a questo tempo di Natale il Signore ha mostrato il suo volto, lo ha sollevato. Abbiamo avuto modo di contemplarlo. Come avevamo immaginato noi prima il volto di Dio? come ci è stato insegnato in una certa catechesi, forse un volto severo, esigente, terribile con chi trasgrediva i suoi ordini, i suoi comandamenti. Ecco, nel Natale ha alzato il suo volto proprio per farcelo vedere, un volto che è amore e tenerezza, è solo amore. Lo abbiamo contemplato ed era diverso da quello che ci hanno detto. È venuto proprio per mostrarci il suo volto sorridente, il volto di un bambino che parla solo di tenerezza, di amore, anche di debolezza, un bambino che piange se non lo accarezzi. Quello è il nostro Dio, quello è il volto del nostro di Dio. E l'ultima richiesta, la pace, shalom, parola che tutti conosciamo bene, ponga su di te la sua pace. Pace non è semplicemente assenza di tensioni, di guerre, ma è la pienezza di tutti i beni. Di nuovo, se Dio non sorride sulla nostra vita, se la nostra vita non è inserita nel suo disegno di amore, noi saremmo sempre condizionati dalle nostre passioni, dal nostro egoismo e non avremo lo shalom, la pace. Solo se impariamo a far sorridere Dio con la nostra vita, vivremo in un mondo di pace autentico. E questo è anche il mio augurio semplice, sincero a tutti, di buon anno. Pace e bene. Grazie.